Il parmigiano reggiano è il formaggio DOP più conosciuto nel mondo. Agriform ne esporta annualmente circa 40.000 forme, parte delle quali proviene dal caseificio Fanticini di Reggio Emilia, controllato da Agriform. La zona tipica di origine è tradizionalmente collocata a sud del Po, nelle province di Parma, a Modena e Reggio Emilia e parzialmente a Bologna e Mantova. L'alimentazione delle vacche da latte è rigorosamente controllata ed è costituita essenzialmente da foraggi verdi e secchi, coltivati nella zona di origine. Il parmigiano reggiano, come il grana padano, affonda le proprie radici in un'antica e secolare tradizione casearia e la sua produzione è regolamentata dal disciplinare del Consorzio di tutela. Quando il formaggio ha 12 mesi, i funzionari del Consorzio selezionano le forme idonee a ricevere il marchio a fuoco del parmigiano reggiano.